Carlo Esposito, Presidente dell'Associazione Sviluppo Area Porto. L'estate ormai è entrata nel vivo. Come vanno le cose per il settore della ristorazione? La situazione è abbastanza complessa perché purtroppo dopo il Covid tutti noi abbiamo cambiato un po' le abitudini, quindi non c'è più quell'affluenza che c'era prima del Covid, quindi non si può programmare nulla e di fatto la movida è abbastanza limitata nei fini settimana. Però questo non sembra perché poi alcuni giorni invece c'è un'affluenza molto interessante e tra l'altro vengono da noi ristoratori a consumare. Dopo l'emergenza pandemica sono cambiate le abitudini delle persone. L'economia procede a rilento e questo naturalmente incide sulla ripresa delle attività commerciali e del settore della ristorazione. Un quadro che accomuna molte realtà, complessa la situazione anche nella città di Torre del Greco. Chiaramente mancano gli attrattori perché si dovrebbe fare qualche iniziativa in più sulla zona porto. Nei prossimi giorni pare che ci sia qualcosa già riorganizzato. Speriamo di fare qualcosa anche sul corso Caribaldi per dare anche una motivazione ai torrisi di venire a fare una passeggiata. Sono cambiate le abitudini dunque si risente della crisi, l'economia va ancora un po' a rilento, gli operatori del settore è lei che li rappresenta? Cosa vogliono chiedere all'amministrazione comunale? Dovremmo facilitare le persone a venire in zona a godere dei nostri servizi. Per questo parlavo di attrattori. Per quanto riguarda invece la viabilità, i parcheggi, la sicurezza, ci segnalavano anche qualche disagio da parte dei cittadini? Sì, effettivamente in certe fasce orari, specialmente serali, ci sono dei centauri che sfricciano sulla zona. Abbiamo fatto anche una segnalazione al comandante dei vigili chiedendo di mettere dei dissuasori oppure della segnaletica che indica la velocità che stanno portando. Però al momento ancora non si è visto nulla. Di fatto gli abitanti del posto fanno delle giuste proteste perché chiaramente è a rischio chiunque, perché attraversando la strada può correre qualche rischio grave e quindi sarebbe necessario fare qualche intervento. Nel corso dell'estate dovrebbero essere organizzati degli eventi e questo è un buon motivo anche per attrarre flussi turistici. Tra l'altro proprio in queste settimane a Torre del Greco si vedono diversi turisti stranieri. Sì, effettivamente c'è una grossa presenza di turisti di tutte le nazionalità, francesi, spagnoli, tedeschi. Tra l'altro anche col traghetto che è stato la linea di verso Capri, Amalfi e Positano ha aumentato la presenza dei turisti. Quindi a maggior ragione creando anche delle motivazioni per fermarsi potrebbe essere un'opportunità per le attività che stanno giù al porto. Per promuovere il territorio e incentivare i flussi turistici servono attrattori. Un lavoro sinergico che coinvolge gli operatori del settore e l'amministrazione comunale. Qualcosa che dobbiamo in qualche maniera costruire insieme all'amministrazione perché non è che si nasce, come dire, nascono le cose dal nulla, bisogna concordarle e cercare di organizzarle per tempo. Perché chiaramente con questa affluenza che c'è in maniera naturale, tra l'altro neanche invogliata a esserci, però il traghetto è una motivazione di venire a Torre del Greco e quindi per questa motivazione dovremmo trovare la maniera di far permanere maggiormente i turisti. Insomma, questa sarebbe l'idea.